La vittoria al Cittadella manca dal derby con il Padova. Sono infatti otto giornate che la squadra allenata da mister Foscarini non trova la vittoria e questo malgrado le buone prestazioni esibite. Nonostante le numerose occasioni da gol create, i Granata hanno difficoltà a segnare, complice anche una buona dose di sfortuna e come nell'ultima giornata della prestazione non all'altezza della terna arbitrale. Ad analizzare la situazione è il direttore Stefano Marchetti, ospite della trasmissione Tutti in Campo Spogliatoi. Tanti errori li hanno fatti anche i giocatori esperti, quindi non è il giovane che ha penalizzato. Credo che ci sono dei momenti dove il risultato ti porta a serenità, vincere la partita ti dà positività, serenità, la partita dopo la giochi con un altro spirito, con un attimo più di tranquillità. La frenesia e la voglia a volte di vincere ti porta a sbagliare, questo credo sia un po' successo. E' invitato a parlare dell'ormai imminente mercato di riparazione, il direttore generale ribadisce la fiducia verso i suoi giocatori. Sicuramente sto attento al mercato, non perché questa squadra secondo me non abbia le capacità per venire fuori, anzi se mi darà dei segnali sarò il primo a non voler intervenire. Però devo avere dei segnali, devo vedere delle prestazioni importanti, devo fino al momento del mercato essere in una condizione di classifica, non dico tranquilla, ma dove me la posso giocare nel girone di torno in maniera concreta. Se non sarà così io interverrò al mercato e farò dei correttivi. Per quanto riguarda Di Roberto, che le voci dicono che ha già avuto un contatto sul procuratore con il Varese. Io nel calcio non mi stupisco più di niente, credo che però Di Roberto sia un ragazzo serio, sia un ragazzo che deve qualcosa al Cittadella. Mi auguro che il suo procuratore, che ho appuntamento fra pochi giorni, di trovare gli accordi. Ovviamente il reparto che guardate più attenzione alla difesa. Io credo che i difensori sono all'altezza, dopo collettivamente dobbiamo migliorare.